It's my life! Adesso soffermiamoci sulle nostre resistenze, perché tutti noi resistiamo al cambiamento in tanti modi diversi. Ci sono resistenze non verbali, cose che possiamo fare come lasciare la stanza, iniziare a fare qualcosa d'altro, sfogliare una rivista o fingere di non ascoltare. Utilizziamo anche molte affermazioni del tipo, non serve a niente, loro non me lo lasceranno fare, loro non mi capiranno. Oppure dietro alle nostre resistenze ci possono essere delle convinzioni, non posso farlo, non si fa, è troppo faticoso. Spesso diciamo loro, identificando con gli altri la nostra resistenza e investendo gli altri del nostro potere. Diciamo cose del tipo, mio marito, mia moglie non me lo permetteranno, le stelle, le carte dicono che non è il mio destino. Me l'ha detto il dottore. Oppure crediamo che siano gli altri a dover cambiare prima di poterlo fare noi. Oppure è qualcosa che si scontra con la nostra religione, con le nostre convinzioni. Oppure mettiamo il nostro cambiamento in stand-by dicendo lo farò dopo, non è il momento giusto, più tardi mi darò una mossa. Possiamo usare la paura come resistenza, potrei farmi del male, cosa penseranno i vicini. Quindi, prefererai morire piuttosto che fare quella cosa, prefererai divorziare piuttosto che fare quella cosa. Ho paura di dire questa cosa a mia moglie o al mio capo. Tutte queste scuse non conducono forse all'affermazione iniziale, non sono abbastanza bravo? Molti di voi prenderanno appunti da dare agli amici. Infatti, sapete esattamente cosa sarebbe giusto fare per cambiarli. Lasciate stare i vostri amici, quando iniziamo ad avere idea di come funziona la mente e di come possiamo cambiare. Vogliamo subito correre dai nostri amici dando consigli su quello che dovrebbero fare per cambiare la loro vita. Diciamo, sai cosa c'è che non va in te? Ma in questo modo non otterrete niente, non vi ascolteranno a meno che non siate voi a cambiare per primi. L'unico modo in cui si può insegnare qualcosa è con l'esempio. Quando avremo fatto i nostri cambiamenti, gli amici e i familiari verranno da noi e diranno «Come sei diverso? Come hai fatto?» E solo allora saranno disposti ad ascoltarvi e forse proveranno persino a fare quello che avete fatto voi. Ricordo che quando ho iniziato a insegnare non mettevo in pratica i miei principi e gli studenti non facevano grossi cambiamenti nelle loro vite. fino a che non ho messo in pratica, vivendo, quello che insegnavo, non sono riuscita ad aiutare veramente le altre persone. Quindi frenate il vostro entusiasmo e non andate in giro cercando di guarire tutti i vostri amici. Fate il vostro lavoro mentale e guarite voi stessi. In questo modo farete del bene a tutti quelli che vi stanno attorno. Inoltre non possiamo imparare al posto degli altri. Devono farlo per conto proprio e non lo faranno fino a che non saranno pronti. Lo studente deve andare dall'insegnante, altrimenti la cosa non funziona. Talvolta mi capita che qualcuno mi chieda di fare visita agli amici che hanno bisogno di aiuto, ma non funziona in questo modo. La persona deve chiedere aiuto da sola, altrimenti significa che non è pronta al cambiamento. È capitato anche che qualcuno ricevesse come regalo una lezione con Luise, ma ho smesso di accettare queste persone come clienti perché era una completa perdita di tempo, sia perché non si presentavano, arrivavano in ritardo o non traevano niente dalla sessione insieme. Quando lo studente è pronto compare sempre l'insegnante che fa per lui. Noi vorremmo che la nostra famiglia ci accettasse per quello che siamo. Bene, ricordate che quello che diamo ci ritorna indietro. Quindi se volete ricevere amore e accettazione dalla vostra famiglia, questo è proprio quello che dovete dare alla vostra famiglia. Quando siete disposti ad accettare la vostra famiglia così com'è, allora anche i familiari inizieranno ad accettarvi esattamente per quello che siete. Dobbiamo essere disposti a mettere in pratica quello che vogliamo ricevere. La regola d'oro è antica. Non è stata creata per fare di voi persone troppo buone e ingenue. Ci mostra invece un principio di verità. Dare agli altri ciò che vorresti venisse dato a te. Utilizziamo lo specchio per misurare il nostro livello di resistenza. Guardatevi negli occhi e dite, sono disposto a cambiare. Sono disposto a cambiare. Avete qualche esitazione? Sentite che non è vero? Qual è la credenza che vi ostacola? Ricordate che si tratta sempre di un pensiero e un pensiero può essere cambiato. Non permettete a questo pensiero di impedirvi di diventare liberi. Stiamo cercando il vero problema e non il suo effetto esteriore. O la questione superficiale. Noi creiamo abitudini e problemi per rispondere a un bisogno dentro di noi. Una volta trovato un modo positivo per realizzare quel bisogno possiamo rilasciare il problema. La forza di volontà e la disciplina non funzionano per apportare cambiamenti permanenti. Per esempio, se siete sovrappeso e vi mettete a dieta, potete avere tutta la disciplina di questo mondo e una forza di volontà così tenace da non mangiare per mesi il cibo che non dovreste assumere. Eppure, nel momento in cui la forza di volontà ha un cedimento e mettete da parte la disciplina, blup, ecco che di nuovo prendete peso. Questo perché non avete affrontato le questioni fondamentali, ma solo l'effetto esteriore. Il vero problema legato al sovrappeso di solito è la paura. La paura crea il grasso per proteggervi, quindi potreste combattere il grasso per tutta la vita senza arrivare mai a sfiorare la vera questione. E probabilmente morirete con la convinzione di non essere stati abbastanza bravi perché non siete riusciti a perdere peso. Il vostro bisogno di sentirvi al sicuro può trovare appagamento in un modo molto più positivo e vedrete che il sovrappeso se ne andrà da solo. Quindi diamo uno sguardo più in profondità e se avete qualche problema con quest'ultima affermazione e sono disposto a cambiare, dite quest'altra. Sono disposto a rilasciare il bisogno di questo problema o resistenza. Lasciate andare il bisogno che avete. Ora, procrastinare è un'altra forma di resistenza che dice che non siete abbastanza bravi. Procrastinare significa impedire a voi stessi di ottenere quello che dite di desiderare. Provare risentimento per il bene che un'altra persona sta avendo nella sua vita è un altro modo di opporre resistenza al vostro stesso bene. Significa che state esprimendo resistenza al bene ed è proprio quello che andrete a creare nella vostra vita. Ce n'è per tutti. Non importa quanta aria inaliate, ce n'è in abbondanza per tutti su questo pianeta per riceverne quanta ve ne serve. Molti di noi sono stati cresciuti come vittime con la convinzione che loro, gli altri, ci stessero facendo quelle cose. Il problema di essere una vittima è che la vittima rimane imprigionata nel suo problema. Quindi adesso noi scegliamo di non essere più imprigionati. Stiamo imparando qualcosa per poterci liberare. Se diciamo sono disposto a rilasciare il sistema di coscienza che crea questa situazione, allora usciamo immediatamente dal coro delle vittime. Ci riprendiamo il nostro potere e realizziamo di essere in grado di risolvere il problema che noi stessi abbiamo creato. Quando ci rimproveriamo, ci sgridiamo facendoci sentire sbagliati, in verità stiamo maltrattando il bambino di tre anni che abbiamo dentro. Come potremmo essere felici e liberi se il bambino dentro di noi è infelice e terrorizzato? Se aveste davanti a voi un bambino terrorizzato, probabilmente lo confortereste così che possa sentirsi al sicuro e felice. Siate gentili e date conforto al bambino che avete dentro di voi mentre scoprite e rilasciate tutti i vecchi messaggi negativi interiori. Questa è una fantastica avventura per voi e non vi capiterà più di vivere questo particolare processo. Considerate oggi come il momento più emozionante della vostra vita perché una volta che avete lavorato sulle questioni problematiche queste spariranno e la vostra vita sarà diversa e quando deciderete di lavorare con le altre questioni sarà molto più facile affrontarle. Abbiamo svelato alcuni schemi e quindi ora la domanda è come cambiare? Beh, avete già cominciato a farlo. Ci sono cambiamenti in atto dentro di voi di cui non siete consapevoli. Da questo momento in avanti tutti i cambiamenti che avverranno saranno per il meglio anche se può sembrarvi che non sia così. Talvolta le cose sembrano andare peggio all'inizio. Ricordate la pentola del tacchino. Capita che dobbiate grattare il fondo della vostra pentola mentre portate avanti il processo di pulizia mentale. Per esempio, state cercando un nuovo lavoro e venite licenziati. Considerate questo fatto come un primo passo verso la vostra nuova posizione. State lavorando sulla prosperità e perdete il portafoglio. Non andate in panico e non rinunciate. Potrebbe comunque fare parte di un cambiamento positivo che è in atto. Potreste lavorare sulle relazioni interpersonali e avere un litigio. State lavorando sulla vostra salute e vi prendete un raffreddore. Sono tutte esperienze temporanee che concorrono alla liberazione dai vincoli del passato.